ciao meizu m2 notte come vedi un bel telefono non c'è male a me piace octa core con 2 giga di ram 16 giga di rom un processore bello veloce come vedi è anche fluido girando il sistema operativo diciamo che assomiglia un poco all'ios perché non c'è l'app drawer ma qua ci sono tutte le icone direi che un bel telefono e qua ci abbiamo il bilanciere del volume e il pulsante di accensione e spegnimento sopra il jack per le cuffie sotto ci sta l'ottopollante di sistema e l'alimentatore il come si chiama attacco per l'alimentatore andiamo su internet il browser è abbastanza veloce questo è un sito delle scadenze ok